felice eccoli che cazzo per cortesia cacamo basta con questa canzone lei ci prende in giro visto che rideva ma perché arrivo il collegamento a Napoli ma sempre questa canzone sempre la stessa volete sentire il retro com'è il retro? il retro di bruscolotti moggi e a farlo in stoppa la palla come fa questa? è arrivato un colpo strano da lontano stoppa la palla stoppa la palla è un po' diverso era grande Teo Teoco l'impersonava felice cacamo una mistura tra Aldo Biscardi e Apicella me la passi questa? ancora nessuno per fortuna sapeva chi fosse col senno di poi ma quanti ne avete lanciati? siete stati veri e propri tale scout Aldo Giovanni e Giacomo Maurizio Crozza la primissima Alessia Marcuzzi avete lanciato addirittura Michel Unziker che uscì da una torta si beh lì non è che l'abbiamo lanciata lì fece una comparsata a noi quando era ancora ragazzina però ne citerei alcuni altri tipo Albanese Fabio De Luigi Paolo Cortellesi non per fare presuntuoso ma perché li ricordo sempre con affetto ma non per fare presuntuosi possiamo dire che siete stati dei veri e propri talent scout negli anni 90 l'hai appena detto 20 secondi fa si possiamo dirlo possiamo dirlo diciamolo Albanese si riscopre oltre che insomma era Alex Drastico il famoso Alex Drastico è un personaggio che già esisteva quando l'ha fatto da noi mentre diciamo quello originale il primo originale fu Frengo il tifoso del Foggia che prendeva la complanare aveva le orecchie a cime di Laup si diceva si esatto il famoso Foggia dei Miracoli di Zemalandia esattamente e a proposito di non si ride più sul calcio Antonio Albanese uno di quei personaggi che ha avuto anche una ristrutturazione del proprio repertorio e che si è appassionato anche della casa sei per quello da quello che mi risulta però si anche del repertorio del repertorio e oltre che della casa è stato uno straordinario cettola qualunque qualunquemente è un personaggio che piace oggi al Giorgio Gerarducci che può anche da autore televisivo anche un po' commentare ciò che si vede in tv si no assolutamente ma infatti Antonio ritornò da noi cinque sei anni fa in un programma e ripropose qualunque che da noi sicuramente sono i suoi personaggi più riusciti e devo dire sempre attuale sempre attuale è anche molto realistico come ci ha detto Marco Travaglio a volte supera anche la realtà esatto purtroppo è molto realistico esatto non vuole essere ma in realtà lo è perché poi sono personaggi reali dei cilipoti al fin della fiera non è che c'erano molto diversi io quando ero più piccolo anche se adesso sono ancora molto giovane ma sembro un ragioniere di 70 anni nonostante stia per finire le medie se sei molto giovane mi chiedo il camion in che condizione sei stato dopo il frontale no vabbè mentre cercavo le ore della Mondadori alle ore basse esatto le ore praticamente al giornale ho trovato un altro giornale e lo conservo ancora oggi era 7 che era l'inserto famoso l'inserto patinato nel quale voi dicevate tutti e tre ma la voce era la tua riportata nel virgolettato quanto è bello e quanto vorremmo ancora chiacchierare con Felice Caccamo beh era un po' di anni fa eccetera ma si ci divertivamo molto a fare i scherzi di Caccamo perché sulla carta dovevano durare 3 minuti e poi ne duravano 8 barra 10 insomma però si era molto divertente perché c'era una base scritta ma poi si improvvisava molto con Teo improvvisare era sempre molto facile e molto divertente oltre a fare televisione oltre a fare radio la Jalapas Band sbarca anche al cinema i cattivi le malelingue dicono che il successo di quel film è stato un successo tra virgolette risicato insomma si poteva fare di più a me è piaciuto tantissimo tutti gli uomini del deficiente no, era un film strano magari non completamente riuscito però anticipava molte cose c'era dentro i videogiochi un linguaggio un ritmo quasi una film d'azione era uno una definizione giustissima un film troppo stupido per gli intelligenti e troppo intelligenti per gli stupidi perché poi la trama insomma era un po' una minchiata però voleva solo essere un film comico in realtà il film andò abbastanza bene però era costosissimo perché era appunto essendo stato girato quasi come un film d'azione con un cassa enorme andò bene ma non ripagò dei costi di produzione diciamo costò tipo il triplo di un film normale ecco per cui incassò bene ma non abbastanza da essere considerato vero e proprio successo ci fu una battuta del nostro ex premier su rosi bindi è più intelligente è più bella che intelligente sì beh non è originale c'è da 30 anni quella battuta non si direi ma se diciamo la stessa cosa di Paola Cortellesi invece un complimento perché è una bellissima ragazza ma è di un talento veramente assolutamente guarda sono stato a cena della ieri sera che gli è nata una bambina è stata vederla a Roma eccetera approfittiamo quindi per fare gli auguri ed è una bellissima notizia ma tra tutte quante le ragazze le comiche che avete lanciato si può dire che insomma sia stata veramente la sorpresa anche più bella perché oltre ad essere una ragazza meravigliosa ha fatto anche dei film con un amico Massimiliano Bruno anche molto divertenti quasi malincomici considerando l'approccio sulla realtà no lei è completissima sa cantare sa fare la comica sa recitare anche drammatica bravo niente a dire poi ne abbiamo avute altre bravi anche Luciana eccetera però è vero che Paola abbiamo proprio scoperto perché era non aveva mai fatto niente in televisione quando abbiamo preso noi quindi mentre Luciana era già abbastanza conosciuta ecco la tv tende a dimenticare si dice insomma che la tv anche io non c'è per quello però perché sono ricoglionito però proprio perché hai fatto molta io mi ricordo ancora in una precedente intervista l'unica che abbiamo fatto ti volevo tranquillizzare si tu mi non me lo scorderò mai ancora mi pento si esatto no mi desti praticamente un altro numero di telefono io chiamai a casa di un'altra persona quindi confermo che a volte sei un po' smemorato ma può capitare e ci mancherebbe la tv si è un po' dimenticata della Jalapa's Band secondo me si ma si è dimenticata di tanti secondo me non solo di noi in questo momento la tv in tv come nel paese non ci sono soldi per cui si fanno pochissimi programmi e quindi c'è tanta gente che lavora poco o lavora meno di quanto potrebbe o vorrebbe o dovrebbe fate voi però insomma non è che siamo gli unici c'è tanta gente più o meno più o meno spazio poi no quest'anno abbiamo lavorato abbiamo fatto le Iene per cui l'anno prossimo dovremo rifarlo vi do questa notizia dovremmo anche rifare e mai dire grande fratello perché ci sarà di nuovo il grande fratello e per cui sì magari si potrà lavorare di più però non ci riaventiamo insomma c'è niente che sta peggio eh salutiamo Pippo Baudo solo in televisione purtroppo salutiamo Pippo Baudo che forse sta peggio no scherziamo però è un altro di sì è un altro di quelli un po' un po' dimenticati e non perde occasione giustamente per sì poi c'è magari uno a una certa età per pensare a fare altro ecco ecco buttiamola lì diamo una bottarella caro Pippone goditi la vita insomma si può vivere anche senza televisione diciamolo facendo la radio ma abbiamo visto ma facendo la radio anche stando a casa potendosi dedicandosi a hobbies o altre cose insomma chi può ovviamente non è poi lavorare insomma se non è necessario per la fine del mese può anche essere un optional ogni tanto insomma non dovrebbe essere un'ossessione secondo me mai dire mai dire è praticamente il loghino l'insieme di parole che ha accompagnato la maggior parte di tutti quanti i vostri programmi la maggior parte di tutti quanti i vostri programmi è molto bella come frase sì no era anche per adattarmi all'uditorio insomma però vabbè sarà contento il tuo pubblico no ammesso che tu abbia un pubblico ammesso che io ammesso che io abbia un pubblico naturalmente tra l'altro ringraziamo l'associazione nazionale i povedenti che è una di quelle che ci guarda più spesso mai dire è sempre rimasto in tonso i programmi sono sempre diversi c'è forse anche un po' di scaramanzia però anche questo è un dato di fatto il mai dire vi contraddistingue sì sì è la nostra diciamo firma antiché fare sempre il suo programma con titoli diversi come fanno altri cercavamo di fare i programmi più o meno diversi anche se la ossatura è sempre stata quella tenendo i titoli quasi uguali abbiamo fatto un po' il contrario di tanti altri io ringrazio ancora Marco Santin te Carlo per non avermi querelato per il mio mai dire Nagatomo grazie ancora anche se so che ma in realtà è Mediaset che dovrebbe querellare perché in realtà il marchio mai dire è di proprietà di Mediaset sì però anche voi l'avete ereditato non abbiamo fatto la soffiata ecco diciamo così esatto però va anche detto che voi stessi lo avete ereditato da un noto e celebre film mai dire mai sì esatto perché noi dobbiamo fare mai dire banzai c'era un programma giapponese non si chiamavano chiamarlo e mi venne in mente quel film che era in quei giorni perché parlavamo dell'88 89 era in quei giorni allora come assonanza mai dire mai 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 dire banzai ci sembrava carino e da lì poi abbiamo tenuto il mai dire per tutti gli altri programmi tra l'altro libro che è andato anche in Giappone è la giornalista che mi ha chiamato la casca ma è dire naga tomo sì ma è andato in Giappone perché l'hai spedito tu perché l'hanno pubblicato ah ecco ce l'hanno tradotto ma tu lo sai che nell'intervista mi hanno chiesto esclusivamente della Jalapas Band per il mai dire banzai mi sveli un segreto mai dire banzai facevano finta ci marciavano o veramente erano così i giapponesi loro dicono che è vero no no era tutto vero era tutto vero in realtà poi erano due programmi messi insieme uno si chiamava Takeshi Castle che era più buffo e un altro che si chiamava Endurance che era quello con le prove che sembravano più delle torture che mischiamo insieme no no era assolutamente vero aspetta anche c'è mio figlio che voleva andare a fare il bagno sono in spiaggia sono in spiaggia sono in spiaggia allora pubblicità fanno quella cosina in spiaggia e torniamo ok pubblicità torniamo subito con Giorgio Ghiarducci Gialappa